Il primo samurai giapponese che canterà un classico della canzone da conoscere insieme a tutti voi ecco a voi Yosuke Kaikawa in Osultano Innamorato non avete mai visto il primo samurai della storia internazionale solamente per questo pubblico rispetto perché dei cellulari è una cosa nuova quando si stessa è la storia e il primo samurai non canterà un successo della canzone di Roma un classico Osultato Namah Il primo samurai non canterà un successo della canzone di Roma Il primo samurai non canterà un successo della canzone di Roma Il primo samurai non canterà un successo della canzone di Roma Il primo samurai non canterà un successo della canzone di Roma Il primo samurai non canterà un successo della canzone di Roma Il primo samurai non canterà un successo della canzone di Roma Il primo samurai non canterà un successo della canzone di Roma Il primo samurai non canterà un successo della canzone di Roma Grazie a tutti.